Bene ragazzi, qui con noi abbiamo trovato nei prezzi della Fontana di Tredi il Mago Terno, un divino Mago Terno, che vuole salutare il nostro canale, tutti a ciò che è. Sì, noi salutiamo e benediciamo tutti gli ascoltatori di questo prestigioso canale e auguriamo un periodo prospero di luce e di speranza. Noi tra l'altro abbiamo un amico nostro che pure è una scherante ma se puoi anche salutare a lui Diamond Days. Noi non conosciamo questa persona tuttavia, non abbiamo difficoltà a benedire anche lui naturalmente. Bene, la ringrazio gentilissimo.